È l'ultimo numero che diminuisce, un concetto che, valutando le curve e gli andamenti, è stato ribadito più volte. A guardare il dato di oggi, il calo inizia ad essere visibile. Sono 13 le vittime del covid, secondo il bollettino odierno. Continua inoltre la riduzione dei ricoveri nei reparti ordinarie e nelle terapie intensive. In Lombardia, a fronte di 20.822 tamponi effettuati, un numero come sempre ridotto nel weekend, sono 675 nuovi positivi. Il tasso di positività si attesta al 3,2%, ieri era al 2,4%. Di questi, 73 sono nel Comasco. La situazione negli ospedali della regione, nelle terapie intensive, sono 11 in meno i pazienti, che in totale restano 371, mentre nei reparti ordinari i malati sono attualmente 2.028, in calo di 25 rispetto a ieri. I guariti e dimessi sono 938. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati, come detto, 13 e portano il totale complessivo a 33.360 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sul territorio, il maggior numero di contagi, 186, viene oggi registrato in provincia di Varese, subito dopo si colloca Milano con 158. Tutte le altre zone hanno meno di 100 positivi, con Bergamo, che ne conta 86, e il Comasco, 73. Ci sono poi tre province sotto i 10 casi, Pavia e Lecco, che ne contano 7 ciascuna, e Lodi, soltanto 2.